Nella cultura anglofona c'è un acronimo, NIMBY, Not in My Backyard, che in italiano suona più o meno come va bene tutto ma non nel mio cortile. Ok, insomma, depuratore, autostrada, ferrovia, eccetera, eccetera, ma non a casa mia. Il fenomeno, nella sua degenerazione estrema, è indicato con un altro acronimo, BANANA, che, tradotto in italiano, suona più o meno così, non costruire assolutamente nulla in alcun luogo e vicino a qualsiasi cosa. Ma non sono certo questi i casi dei comitati che si oppongono alla realizzazione della ferrovia Pescara-Roma, progettata da RFI. L'accezione, in un certo senso negativa, di NIMBY o di BANANA soccombe qui di fronte all'evidenza. Case e attività praticamente spazzate via per un'opera ambiziosa, sì, ma estremamente divisiva, al punto da dividere in pro e contro gli stessi comitati cittadini, che sulle modifiche proposte a RFI hanno idee diverse. Uno dei comitati, per esempio, chiede addirittura una sorta di variante della variante, perché il treno non vuole proprio vederlo neanche in lontananza. Difficile trovare un punto di mediazione. Su questo stanno lavorando i comuni interessati dal transito del treno veloce Chieti e Manoppello. Proprio a Chieti oggi è tornata a riunirsi la commissione speciale che ha presentato il progetto di variante ai rappresentanti dei comitati. Uno spostamento rispetto al tracciato originario del progetto di ferrovie dello Stato che permette di evitare alle cittadine, uno dei quartieri più popolosi di Chieti, Brecciarola, e alla cittadina di Manoppello, di evitare, come dicevo, espropri e abbattimenti di case, manufatti e piccole aziende. Uno spostamento della ferrovia verso l'interporto. Gli ingegneri di RFI hanno preso in considerazione questa variante che abbiamo denominato dei cittadini, noi e la città di Manoppello, perché è stata frutto di uno studio anche applicato da parte di cittadini di Chieti di Manoppello, ovviamente addendri nei fatti tecnici, e ci è sembrato che possa essere presa in considerazione, nonostante che la sua effettuazione comporti un aggravio di 150 milioni di euro rispetto al progetto originario. Però è anche vero è anche vero che i soldi che risparmierebbero dagli espropri e dalle mitigazioni, da tutti quegli atti di mitigazione degli effetti collaterali nel passaggio della ferrovia nei centri abitati, potrebbero essere quasi paragonati a quelli che si spenderebbero in più. Quindi io, insieme col sindaco di Manoppello, sono ottimista. Invece l'8-0, che interessa San Giovanni Tiatino, San Martino e Chieti Scalo, abbiamo un progetto di interramento della ferrovia in questa tratta che molto probabilmente non sarà così oneroso da non poter e dover essere preso in considerazione. Grazie.